Uno dei commenti che capita stesso è Luca ma che cosa fai? Suoni un blues con una chitarra classica? Per me è molto pratico innanzitutto utilizzare una chitarra classica Poi la chitarra classica è presente in quasi tutte le case Potrebbe essere anche un motivo di ispirazione Imbracciare la chitarra che si ha sul divano Per cominciare a praticare A livello meccanico è la stessa cosa Sì, è vero, con la chitarra elettrica c'è la possibilità del bending Con il suono delle corde di una chitarra acustica E più brillante e tutto il resto Ma a livello meccanico quando noi andiamo a studiare una scala Possiamo anche tirare fuori un suono abbastanza elettrico Ci sono moltissime possibilità di imparare a suonare qualsiasi stile Su qualsiasi chitarra Potrebbe fare anche la differenza Per poter sviluppare un tuo proprio stile